ciao a tutti ragazzi e buongiorno è un video veramente veramente veloce ma ci tenevo a farlo già mi viene da ridere scusate la qualità del video ma la sto facendo con la webcam del pc anziché con anziché con il telefono non è questo un problema importante che si capisce i contenuti allora ho appena fatto la mia colazione la mia colazione equilibrata sana e nutriente ho acceso un attimo la tv credo che anche voi l'abbiate visto ormai da mesi va in onda una pubblicità di un programma per perdere peso e se continua ad andare in onda significa che le persone stanno dietro e comprano anche questo programma non so come facciano che si chiama mi piace così possono tranquillamente se vedranno questo video contattarmi per querele non ho nessun problema ragazzi non ce l'ho con questo con queste persone non so se è una società se è una società o chiunque sia e che tra l'altro andrebbero già denunciati per il semplice fatto che non promuovono comunque insieme al loro programma non dicono di fare uno stile di vita sano e attivo quindi attività fisica bere acqua e quant'altro e tra l'altro se andate proprio su google sul loro sito ma anche sulla pubblicità lo dicono non hanno cioè non si può dire quanto peso perdi in quanto tempo è proprio per legge ok quindi ragazzi niente il mio consiglio è seguite persone serie aziende serie quindi con prodotti che funzionano e che seguono comunque le leggi che rispettano le leggi detto questo vi auguro vi auguro una colazione equilibrata a tutti state veramente attenti ragazzi a queste cose prendete integratori questo lo dico sempre perché il cibo è impoverito non lo dico io ma i motivi sono ovvi e bevete acqua e fate attività fisica ok ciao ragazzi al prossimo video